Sono 5 le persone che sono morte ieri sera in una terribile sparatoria avvenuta in una discoteca al Club Q a Colorado Springs. Si tratta di un locale gay, lo ha riferito la polizia locale, secondo quanto riportato anche dalla CNN. Altre 18 persone invece sono rimaste ferite, secondo le prime ricostruzioni è stato già fermato un sospetto, anche egli ferito. Al momento non è ancora chiaro il movente che abbia portato l'uomo a compiere la strage.